Ben ritrovati, la scorsa settimana abbiamo cominciato a raccontare la storia di Verbagna, cercando di far capire ai nostri ascoltatori, di spiegare ai nostri ascoltatori quanti litigi ci siano stati per far nascere Verbagna. E la puntata, che doveva finire almeno fino al 1939, quando nasce la città, si era fermata al 1932 perché era finito il tempo. Rivolgiamo il film, che si cominciò a parlare di Verbagna, raccontavo dal 1907, non si combinò nulla salvo una bella rivista che si chiamava Verbagna, poi arrivò la Prima Guerra Mondiale con altri problemi, poi dopo invece si ricominciò a parlarne successivamente, ma era difficile mettere insieme nove comuni diversi e si decise nel 1927 di procedere per gradi. Si cominciarono a unificare i nove comuni in due soli comuni, quindi Suna e Cavandone, che era comune autonomo, furono conglobati in pallanza che aveva già fondotoce, Suna e scusate Intra, raccolse invece gli altri comuni intorno, che erano Arizzano Inferiore, l'attuale collina verbanese, Unchio, Trobaso e Intra stesso ovviamente, che costituì il comune di Intra. Questo avvenne all'inizio degli anni 30 in attesa di una fusione generale su Verbagna. Nacque, e eravamo arrivati fin qua, al 1932, quando ci doveva essere una riforma degli enti locali, quindi una riduzione dei comuni, sembrava l'occasione buona, nell'ottica di unificare Intra e Pallanza e fare una cittadina abbastanza grande per diventare capovoro di provincia. In quel momento si pensava a una provincia che si sarebbe chiamata qualcosa come Terre Borromee, che avrebbe unificato le due sponde del Lago Maggiore, l'Ossola e insieme a una provincia di circa 200.000 abitanti. Nella riforma del 1926 era infatti nata la provincia di Varese, ma era più concentrata, diciamo, come interessi economici su Varese, Gallarate, Saronno, Bustarsizio, e quindi ecco perché c'era uno spazio da questa parte che si poteva inglobare in una sola provincia. Ma andiamo veloci, siamo nel 1930, nel 1930 appunto c'è questa unificazione, nel 1927, nel 30 si comincia a discutere di fare la nuova città. Nacquero dei problemi, dei problemi di carattere economico. Il Comune di Viglintra è una situazione economica difficile per i debiti che erano stati contratti per la costruzione del nuovo ospedale. E questo però era uno anche dei motivi per cui si voleva arrivare ad avere un ospedale unico, un ospedale unico a livello cittadino, perché c'era il Castelli a Pallanza, l'ospedale San Rocco a Intra, ma anche per cercare di risparmiare le spese, per esempio sulle scuole, per esempio sugli uffici. E quindi, diciamo, dopo alcuni incagli di carattere burocratico, le cose proseguirono. Si arrivò quindi al 1935, quando nacque un problema. Che cose sarebbero stati i due comuni? Ci sarebbe stata un'unione? Ci sarebbe stata una fondazione? Ci sarebbe stata una fusione? Ci sarebbe stata una riunione? Tutte queste questioni comportavano, dal punto di vista giuridico, delle situazioni diverse e quindi si perse dell'altro tempo. Finalmente, nel 1935, il 30 di marzo, il Podestà e la giunta municipale di Pallanza, che si chiamava la giunta consulta municipale, dettero l'ok alla fondazione con Intra. Ricordando però che il capoluogo doveva essere Pallanza, perché Pallanza era stata capoluogo di provincia, sia pur come provincia intesa diversamente da oggi precedentemente, e quindi il titolo sarebbe rimasto a Pallanza, il luogo, la sede della nuova provincia. Intra rispose l'8 giugno del 1935 che va bene, ci si poteva fare una fusione con Pallanza, ma allora il centro di Verbagna, della nuova Verbagna, non doveva essere Pallanza, ma doveva essere messo nella piana di Sant'Anna, quella attualmente ingombra di tanti servizi, che a parte la zona della Rodiatoce, a parte la zona del cimitero, era vergine, era vuota, lì doveva nascere il nuovo centro della città, altrimenti quelli di Intra non sarebbero stati d'accordo né riconoscere a Pallanza il titolo di frazione capoluogo. Alla fine quindi continuò questo dibattito, ma fu trasferita al Ministero degli Interni l'ok delle due amministrazioni. E finalmente nel settembre 1938 fu ultimato l'iter burocratico per la fondazione della nuova città, che non era immediato, ma che ormai si sapeva che sarebbe stata questione di settimane. Qui tra l'altro Verbagna nacque con un grossissimo equivoco, perché poiché ormai era tutto deciso e si aspettava soltanto il decreto, che poi arrivò il 4 di aprile del 1939, successe una cosa curiosa. Il Cavalier Vineis, persona che in tarda età ho conosciuto anch'io, era il locale corrispondente della Gazzetta del Popolo. Allora il giornale locale era la Gazzetta del Popolo di Torino, più che la stampa, che pubblicava una pagina di cronica di Novara e dei Laghi. Quindi, in procinto di fare la nuova città, il Vineis preparò tutta la sua bella corrispondenza, ricordando che poi ne parlavano anche i giornali nazionali, fu un avvenimento abbastanza importante per l'epoca, poi la nascita di Verbagna. E preparò tutto e lo mandò in redazione, spiegando bene, attenzione però, aspettate a pubblicare, a decreto uscito. Soltanto che nel lungo telegramma, loro si usava così per trasmettere gli articoli, chi compose scrisse a segreto uscito. Dopodiché, appena, alla fine di marzo, si seppe che il decreto era la firma del sovrano, perché il decreto è firmato Vittorio Emanuele III, essendo un decreto è controfirmato dal capo del governo, che era Benito Mussolini, ormai uscì il segreto, e la Gazzetta del Popolo pubblicò un bellissimo articolo in prima pagina, è nata la città di Verbagna. Invece non era ancora vero, il decreto non era uscito, quindi lavata di capo terribile al povero Vinesche, però spiegò e disse, guardate che io ho scritto, ah, decreto è uscito, il decreto ancora non è uscito. Per fortuna che tre giorni dopo, il 4 di aprile del 1939, finalmente uscì la città, e nacque subito in modo infelice, perché il commissario prefettizio, messo dal prefetto di Novara, per amministrare i nuovi comuni, si chiamava Domenico Campanelli, e subito la battuta fu, ecco, sul Lago Maggiore hanno fatto il paese dei Campanelli, che era una opera leggera di musica, che in quei tempi funzionava. Ma l'inizio fu veramente in vausto, pensate, quindi viene pubblicato il decreto, viene nominato il commissario prefettizio, il sessantesimo giorno nasce il comune, perché ci vuole 60 giorni per l'entrata in vigore dei decreti, e il 4 giugno del 1939, ci fu la cerimonia di nascita del comune, e fu una cerimonia assolutamente dismessa. C'era un centro a Sant'Anna, perché poi alla fine si era deciso che la sede municipale non sarebbe stata né a Intra né a Pallanza, ma a Sant'Anna, c'era un capannone con annessi sei locali, dove attualmente c'è il teatro del circolo di ritrovo di Sant'Anna. Lì, quando ero bambino io, c'era la caserma dei pompieri, prima ancora c'era stata la sede provvisore del comune. Quindi, questo povero Campanelli si ritrovò in questi sei locali a fare la cerimonia, le croniche dicono in modo assolutamente dismesso, iniziò appunto l'attività comunale contro le simpatie della gente, perché agli intresi erano arrabbiati con quelli di Pallanza, quelli di Pallanza erano arrabbiati con quelli di Intra, quindi diciamo che non godeva di buona, oltretutto non c'era neanche il sindaco, appunto perché c'era, a parte che sarebbe stato il potestà, ma comunque c'era soltanto di nomina prefettizia, questo funzionario che doveva in qualche maniera far nascere il comune. E quindi cominciò a mettere insieme le due amministrazioni. Intanto dice che per un anno le amministrazioni sarebbero rimaste separate, perché ci voleva il tempo per amalgamare tutto. Ovviamente cominciarono i primi registri. Ebbene, il primo bambino registrato a Verbagna è tuttora vivente, si chiama Roberto Rebecchi, è stato anche consigliere comunale, è un mio collega per tanti anni. Roberto Rebecchi fu il primo bambino iscritto, è tuttora iscritto come primo bambino, nato dopo che è nata a città di Verbagna. Quindi può freggiarsi del titolo di primo cittadino per tutta la vita. C'è stato sindaco per tutta la vita, evidentemente, no? Al di là di questo, però furono fatte subito alcune cose positive. Per esempio fu messo l'autobus, fu fatto un autobus che andava da Inter Pallanza e viceversa, spesso durante la giornata, perché altrimenti non si poteva andare da un ufficio comune all'altro. Fu iniziata una commissione edilizia e il Campanelli ebbe subito l'intuizione lanciare il concorso per il piano regolatore per rifare il centro della città che doveva nascere là dove oggi ci sono tutti i palazzi diciamo della periferia verbanese, ovvero nella piana di Sant'Anna. Chi ha avuto modo di vedere il piano regolatore che poi fu presentato nei vari concorsi e negli anni successivi può vedere veramente una realizzazione di centro urbano, sia pur con i gusti architettonici del tempo, veramente molto bella. Un viale che scendeva più o meno dall'attuale centro di Sant'Anna, scendeva direttamente verso il lago, là dove c'era il porto poi affondato, e a destra e a sinistra di questo grande viale tutti gli edifici pubblici della città e della costituenda provincia, perché si pensava che questa sarebbe stata la città di Verbagna, la nascita di Verbagna, propedeutica appunto ad avere la provincia. Dopodiché successivamente fu nominato il primo amministratore, l'avvocato Ernesto Pirola, che fu il primo podestà di Verbagna. Sull'avvocato Ernesto Pirola, e torno al testo di Bertolo, credo che la storia dovrebbe dargli maggiormente attenzione. L'avvocato Ernesto Pirola era un galantuomo per cominciare, non faceva attività politica, era stato sinico di Pallanza, giovanissimo, dal 1910 al 1918, quindi tutto il tempo, quindi a letto dai cittadini, era stato sinico di Pallanza durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi si era poi trasferita a Milano a fare l'avvocato, pur avendo la casa a Pallanza, persona di grande buonsenso, accettò probabilmente controvoglia questa nomina e comunque pensava di rimanerci relativamente poco tempo. Prese subito un vicepodestà che si chiamava Arturo Grignaschi di Intra, per pareggiare le cose, disse che la sede municipale di Pallanza, che di fatto rimaneva poi come municipio, era provvisoria, in attesa appunto che fosse approvato il piano regolatore negli anni 40, e quindi poi trasferita alla sede municipale da un'altra parte, e iniziò a cercare di tenere regata la città. Era anche presidente della Banca Popolare di Intra, questo per dire che era una persona sicuramente diciamo di buon senso, soltanto che, qualcuno di voi lo ricorda, l'anno dopo scoppiò la guerra. Lui si ritrovò ad essere il podestà di Verbagna, in una città che, quando scoppiò la guerra, passò da 25 mila abitanti a 50 mila nel giro di poche settimane, perché tantissime persone sfollarono dalla città, oggetto ai temuti bombardamenti, sulle rive del lago, quindi tutte le rive del lago furono piene di profughi, quindi in piena guerra gestire una situazione di assoluta emergenza alimentare e da tutti i punti di vista, sicuramente per il povero Pirola fu un'impresa decisamente difficile. Non solo, il Pirola si ritrovò ad essere il commissario podestà quando iniziò la guerra civile, anche nel 1943, quindi agli problemi di gestione amministrativa di questa città iniziarono anche i problemi di carattere politico-militare, la presenza partigiana, la presenza dei reparti fascisti in città, gli scontri, gli ammazzamenti, le fucilazioni, i disastri, credo che Pirola veramente si trovò ad affrontare un momento di estrema difficoltà, di fatti dette le dimissioni, non volle fare il podestà durante la bluca sociale, fu obbligato a farlo, finalmente nel 1944, tra l'altro dopo i fatti di Fondotoce, furono accettate le sue dimissioni e nel settembre 1944 si ritirò a vita privata. Ci furono tutti gli episodi, che tralascio perché sennò è troppo lunga, tutti gli episodi terribili, come l'ecidio di Fondotoce, la fine della guerra, l'arrivo dei partigiani, e tutte queste situazioni che portarono poi alla liberazione nell'aprile del 1945. E, diciamo così, finalmente, Verbagna potè cominciare ad avere una vita democratica. Una vita democratica nel senso che quando arrivarono gli inglesi nominarono pro tempore un, non era ancora un sindaco, ma una persona a reggere le sorti del comune. Tra l'altro vi ricordo che durante la guerra a Verbagna c'è stato il bombardamento del Cassinone e quindi con molti morti nella parte alta di Intra, l'affondamento del Battello Milano, altri morti anche in questa situazione. Insomma, arriviamo al... Nel frattempo, dopo Pirole, era stato nominato un commissario prefettizio nella persona dell'avvocato Albasini, che dette le dimissioni nelle mani degli alleati il 2 maggio del 1945, quando appunto Albertini si dimise, e Vincenzo Adriani, socialista, che era stato amministratore a Pallanza tra il 1920 e il 1922, fu messo sindaco provvisorio, pro tempore, ad amministrare la città in momenti di estrema difficoltà. Tra l'altro, pochi giorni dopo, fu arrestato il Pirola, perché era appunto stato podestà e fu rinchiuso nelle carceri giudiziarie. Adriani era, anche in questo caso, direi non solo un galanto uomo, una gran brava persona, lavorò e cercò di fare di tutto per calmare gli animi, ma anche per ripartire. Il grande problema che c'era era l'approvvigionamento alimentare per tutte queste persone che non avevano da mangiare in buona sostanza e quindi fece tutta una serie, compreso istituire la riva del popolo, dove tutti potevano andare a pescare per cercare di pescare qualche pesce da mangiare anche se non avevano la licenza, è un esempio piccolo, e quindi iniziò di nuovo la vita democratica in attesa delle prime elezioni. E ci fu anche un episodio che voglio ricordare. Nel luglio del 1945, quindi tre mesi dopo la fine della guerra, il Pirola era sempre in galera e in attesa di giudizio, avendo partecipato comunque come amministratore al regime fascista. e il Vincenzo Adriani testimoniano davanti la corte da Sisei Novara sull'innocenza dell'avvocato Pirola, sostenendo che non era giusto tenerlo rinchiuso perché aveva sempre cercato di fare, che non aveva responsabilità di carattere politico, ma che invece aveva cercato di aiutare il prossimo, di aiutare la gente. Questo fatto portò sia alla liberazione del Pirola, che di fatti fu giudicato a non luogo a procedere da parte della corte della Sisei straordinaria e quindi liberato senza alcun ulteriore guaio giudiziario, ma portò alla prima crisi di giunta in quanto il Partito Comunista non gradì che Adriani, che era un collaboratore di Pirola, addirittura a Pallanza, prima del fascismo, avesse testimoniato in favore del Podestà e quindi fece cadere la giunta. Adriani alla fine di luglio del 1945 si dimise e le autorità alleate che ancora governavano pro tempo la situazione nominarono un altro sindaco sempre socialista nella persona di Luigi Zappelli. Luigi Zappelli fu il primo sindaco della città perché si può dire che Vincenzo Adriani era un pro-sindaco in quanto era stato nominato così di emergenza. Luigi Zappelli era un vecchio amministratore era stato sindaco di Intra, poi era emigrato in Svizzera, era stato a Lausanna notoriamente antifascista, socialista e fu il primo che il 27 agosto del 1945 iniziò la vita democratica di Verbagna. Vado veloce perché poi dedicheremo magari altre puntate agli anni più recenti anche perché d'ora in poi si incanala un po' una storia di una città come le altre ma con due importanti differenze. La prima innanzitutto che si procedette nel 1946 il 7 aprile alle prime elezioni c'erano tre liste il 72% dei voti andò al blocco popolare 24 consiglieri il 25,46% la democrazia cristiana 6 consiglieri l'1,79% al partito liberale nessun consigliere quindi in consiglio comunale c'erano solo due partite 24 del blocco popolare e 6 democristiani mio nonno era un consigliere comunale della democrazia cristiana me lo raccontava sempre bene ecco già che ci siamo referendum monarchia repubblica il 63% votò per la repubblica il 36,39% per la monarchia alla costituente il 35% votò per il partito socialista il 34% per la democrazia cristiana il 21% per il partito comunista e il 4% per l'uomo qualunque questi erano i voti del 46 ma torniamo a una questione finale Verbagna era nata nel 39 dice il manifesto il decreto per volontà di Vittorio Emanuele III ma era giusto che in un diciamo in un dopoguerra democratico ci fosse o no un comune nato sotto il fascismo si pone questo problema e quindi molti dicono sì ma Verbagna deve continuare soltanto se si fa un referendum perché se non si fa un referendum confermativo da parte della popolazione perché dobbiamo accettare lo stato di fatto che sia nata una città nuova con un nuovo nome unendo due diversi comuni se ne discusse a lungo di questo tempo di questo acquisito ma piano piano poi le cose diciamo scemettero quello che invece non cambiò fu l'opinione lì quelli di Trovaso a Trovaso ci fu una forte contestazione ad essere uniti a Verbagna e chiesero quelli di Trovaso un referendum per confermare il fatto che Trovaso e solo Trovaso rimanesse come amministrazione autonoma questo referendum fu fatto perché anche qui per un motivo di carattere politico allora innanzitutto siamo nel 1947 viene indetto questo referendum ma quelli di Unchio che erano stati precedentemente assorbiti a quelli di Trovaso dicono che loro vogliono rimanere a tutti i costi con Verbagna e qui nasce un problema il referendum è per far tornare o meno Trovaso aggregato a Intra o Trovaso aggregato a Verbagna la questione è sempre sottile è sempre ridicola ma allora si pose ma alla fine si arrivò al referendum il 4 maggio del 1947 furono chiamati al voto i votanti gli elettori di Trovaso per decidere se rimanere con Verbagna o ritornare in comune autonomo furono la maggioranza votò per l'autonomia votarono 1035 voti per il mantenimento del comune per il riottenimento del comune autonomo di Trovaso soltanto 305 contrari cioè decisero di restare con Verbagna 305 voti quindi circa due terzi della popolazione più di due terzi della popolazione disse vogliamo il comune autonomo eppure il comune di Trovaso non tornò più perché? perché nacque un problema la legge comunale provinciale diceva che non si potrebbero fare i comuni sotto i 3000 abitanti e per fortuna di Verbagna gli abitanti di Trovaso erano circa 2700 e il secondo luogo perché il comune di Trovaso sarebbe trovato troppo indebitato essendo ormai praticamente i suoi beni alienati verso Verbagna ne nacque una discussione che andava avanti per un po' di anni finché nel 1953 si decise di non dar luogo agli esiti referendari e quindi il comune di Verbagna continuò con la sua attuale la sua attuale diciamo così popolazione e territorio un altro aspetto ma perché questo referendum e anche quello di Verbagna su Verbagna su mantenere o meno Verbagna ebbe un'attenzione forte durante quegli anni per questioni politiche il comune di Trovaso comunque la zona di Trovaso era la zona cittadina dove la percentuale dei voti socialisti e comunisti rappresentava oltre l'80% e quindi erano lo zoccolo duro essendo un quartiere operaio allora chi era di sinistra era di solito il centro operaio e i democristiani che avevano capito che non avrebbero mai avuto la maggioranza a Verbagna perché complessivamente con tutto il territorio cittadino erano in minoranza capirono che se si fosse staccato il comune di Trovaso e le altre frazioni diciamo così popolari legate a Trovaso a quel punto nella restante parte della città cioè a Pallanza dove già avevano la maggioranza e in Intra avremmo potuto controllare il comune quindi i democristiani che praticamente non esistevano a Trovaso erano quelli che più forzatamente volevano che si procedesse alla separazione dei due comuni dicendo complessivamente non comandiamo ma se dividiamo in due la città una parte la stacchiamo e manteniamo il resto che conta di più abbiamo la maggioranza o possiamo avere la maggioranza ecco perché l'onorevole Menotti che era un deputato democristiano qui di Verbagna era il propugnatore della legge che appunto al Parlamento Italiano portò avanti per una legislatura la volontà di dividere Verbagna da Trovaso questo però poi finì perché appunto per tagliare la testa al torre il ministero disse non si può applicare questo referendum perché Trovaso avrebbe meno di 3.000 abitanti e direi che con questo abbiamo concluso questa puntata quello che vorrei aggiungere è che tante cose sono passate da allora rivangare o conoscere queste cose forse può essere un po' una particolarità ma io credo che andrebbero invece approfondite le figure di queste persone per esempio il Pirola che fu il primo come abbiamo detto il primo Podestà in periodi bui per tutta la sua vita si portò dietro questo senso di responsabilità e nel 1974 quando morì il Consiglio Comunale di Verbagna ne prese atto ma non lo commomero io credo che se ci fosse una persona da riabilitare nella nostra città sarebbe proprio questo personaggio che non aveva mai fatto attività politica e che sicuramente ha detto un grosso impulso all'inizio perlomeno della nostra vita cittadina con lui tutti gli altri amministratori che poi nei decenni lo hanno seguito e ormai Verbagna è una distinta signora attempata della veneranda con quest'anno di 84 anni facciamo gli auguri a Verbagna per il prossimo 4 di aprile a voi tutti un saluto e ci sentiamo la prossima settimana a vera a vera a vera a vera a vera Grazie a tutti.